L'ultimo numero della rivista Inventario appena uscito ti dedica a un lungo articolo nella sezione dedicata ai nuovi maestri. Allora la mia domanda è, visto che sei stato considerato per molti anni un giovane designer, che cosa significa di colpo passare dall'altra parte della barricata ed essere considerato un maestro? Che domanda particolare! No, diciamo che secondo me quando si è giovani si cerca sempre di essere un po' incendiari nel progetto. Io spero di esserlo ancora e di esserlo ancora per tanti anni, ecco, questo è quello che mi importa. Come giovane maestro, quali sono stati i tuoi maestri? Chi riconosci in questo ruolo? E nel caso hai degli allievi? Mi viene molto da ridere sinceramente, mentre c'è in questo momento, però al di là di tutto sicuramente di maestri veri e propri non ne ho, non ne ho mai avuti, non sono mai, non ho mai collaborato con, diciamo, con studi, eccetera. Quindi ho iniziato da solo facendo la gavetta, però i miei maestri sono intanto le persone durante la vita di tutti i giorni e poi in base al progetto sicuramente ci sono dei progettisti che mi hanno insegnato tanto. In questa intervista sono passato da Alessandro Mendini a Corrado Levi, per arrivare fino a Castiglioni, ma anche, io direi, anche lo stesso Paolo Ullian. E in questa edizione 2019 del Salone del Mobile presenti con Campeggi un pezzo che probabilmente farà discutere, nel senso che si tratta di un asdraio in legno, quindi sostanzialmente della rilettura di un oggetto anonimo. Come ti poni rispetto a questa tematica? Sicuramente la reinterpretazione dell'oggetto anonimo è un aspetto del nostro lavoro molto, molto interessante, perché ci sono tante tipologie che non vengono considerate più di tanto, ma al di là di questo, secondo me, è sempre interessante lavorare sulle tipologie nel momento in cui si riesce a dire qualcosina di più. E non è detto che sia necessariamente giusto. Per questo progetto con Campeggi io non ho fatto altro che fare il minimo sindacale, quindi non ho fatto altro che trasformare uno dei due braccioli in un semplice piano d'appoggio, perché quando utilizziamo un asdraio, tipica asdraio che si trova sulle spiagge, abbiamo sempre bisogno di un piano d'appoggio. E in questo caso si crea, si anima automaticamente durante l'apertura della sedia asdraio stessa. Con una tipologia di questo genere, appunto la sedia asdraio, come è possibile combattere la grande distribuzione? Come potrà esserci un rapporto tra l'oggetto e il prezzo che consenta alle persone di acquistarlo? Diciamo che comunque è una sedia asdraio sicuramente lavorata in modo artigianale e questa artigianalità secondo me si esprime al primo colpo d'occhio. Già guardando questo piccolo piano d'appoggio lavorato in CNC si vede subito comunque l'aspetto della lavorazione. E anche la scelta dei tessuti stessi, io credo che sia un oggetto quasi industriale che paradossalmente sprizza artigianalità da tutti, insomma dappertutto. Nel rapporto con l'oggetto anonimo, hai citato prima Castiglioni, tu sei stato il primo ospite della Fondazione Castiglioni a avere una mostra all'interno dello studio di Achille Castiglioni. C'è un legame tra il lavoro e la collezione di Achille Castiglioni e questa tua opera? Intanto quando mi ricordi di quella mostra mi si illuminano ancora agli occhi perché è stata un'occasione incredibile, insomma, entrare nello studio di Castiglioni e poter appoggiare, disseminare il suo spazio di alcuni oggetti fatti da me è stato strepitoso. Detto questo, sicuramente lui è stato campione olimpico di salto in alto con l'oggetto anonimo sotto braccio. Quindi magari, forse nel pensiero, non so se nel risultato, anzi quello non credo.